Cosa faresti se non avessi bisogno di lavorare? Questa è la domanda cardine di Afterwork, il nuovo documentario sul lavoro di Eric Gandini. Nel documentario un intervistato dice che l'anno scorso, negli Stati Uniti, gli americani hanno rinunciato a 578 milioni di ore di ferie pagate a cui avevano diritto. Vediamo inoltre la situazione dei corrieri Amazon in America. Nei loro veicoli sono state implementate diverse videocamere ad intelligenza artificiale per sorvegliare gli autisti. Infatti quando suona loro il telefono oppure quando prendono una bottiglia dal portabicchieri la videocamera emette un suono, fa presente loro che sono costantemente controllati. Alcuni e alcune di loro non hanno nemmeno il tempo per espletare i propri bisogni, si portano quindi dietro una bottiglietta vuota per farlo.